lisa giombini e di sofia bonicalzi allora sono due colleghe dell'università roma 3 che si occupano di filosofia morale e di estetica e che hanno io credo la grande capacità il grande merito di collegare le discussioni tipiche della filosofia cioè le discussioni diciamo più legate alla tradizione filosofica la tradizione dei problemi filosofici di collegarle anche con invece temi del dibattito del dibattito attuale e quindi sono professoressa all'università di roma 3 autrici di molte pubblicazioni sui temi che andiamo ad affrontare e darei senz'altro la parola a sofia bonicalzi per il primo intervento direi di seguire lo schema che abbiamo che abbiamo seguito anche con i primi due relatori a meno che loro non abbiano altre idee in questo caso in questo caso ovviamente faremo quello che preferiscono preferiscono loro prego sofia grazie molto riccardo per l'introduzione e grazie anche a franco trabattoni e francesco pentassuglio per le loro belle relazioni sono molto contenta di essermi connessa prima e io avrei un po di slide quindi se va bene condivido lo schermo penso che tu sia abilitata sì 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 credo di poterlo già fare adesso temo che poi non vi vedrò più quindi vediamo insomma ditemi se si vede molto bene va benissimo va bene ok allora dunque io ho scelto un titolo io e lì abbiamo scelto un titolo collettivo che è la libertà nella vita e nelle arti in realtà io parlerò più della vita e lei parlerà più delle arti però insomma speriamo ci siano dei punti di connessione fra le nostre presentazioni allora quando si parla di libertà uno dei filosofi che vengono in mente subito è un filosofo del novecento che si chiama Isaia Berlin che è un filosofo che ha distinto è un filosofo del novecento e ha distinto fra due forme di libertà cercando di dare una sorta di definizione di questo termine dunque Isaia Berlin dice che ci sono sostanzialmente due sensi fondamentali della parola libertà una lui la chiama libertà negativa e l'altra la chiama la libertà positiva ora la libertà negativa è la libertà da qualcosa per esempio la libertà da ostacoli la libertà da barriere la libertà da vincoli che pongano appunto delle costrizioni rispetto al nostro agire la libertà positiva invece è la libertà di fare qualcosa la libertà di realizzare i propri scopi di prendere la parola e di avere libertà di espressione per esempio ora queste varie forme di libertà la libertà negativa e la libertà positiva a loro volta si esprimono in tanti modi diversi possiamo dire ci sono tante declinazioni possibili della libertà da e dalla e della libertà di se ci pensate pensate un po agli usi comuni del termine libertà per come appunto lo utilizziamo i vari ambiti nel quale si applica nella nostra vita di tutti i giorni vi verrà in mente forse la libertà politica come prima cosa la libertà che ha un popolo di autodeterminarsi per esempio la libertà di votare questo fa parte della libertà politica la libertà di espressione già l'ho citata prima quindi la libertà di dire ciò che si pensa senza avere timore appunto di essere per questo puniti ma anche la libertà nell'espressione artistica e di questo probabilmente dirà poi lisa ma c'è una altra forma di libertà di cui si occupano moltissimo i filosofi e che è uno dei grandi temi della filosofia a proposito di appunto dei grandi temi che esistono un po da da sempre e che però si spera insomma i vari filosofi nel corso dei secoli siano riusciti insomma in qualche modo a rielaborare a dare dei significati delle interpretazioni nuove che è il cosiddetto libero arbitrio il libero arbitrio spesso si identifica con quella che viene chiamata libertà metafisica e ora cercheremo anche di capire in che senso ecco la mia presentazione è incentrata essenzialmente sulla questione del libero arbitrio e potete considerarla come essenzialmente divisa in due parti nella prima parte cercherò di darvi un'idea di quello che è stato il dibattito il grande dibattito sul libero arbitrio che almeno a partire dai filosofi dell'età moderna quindi non tornerò così indietro non tornerò a platone ma almeno insomma dai filosofi dell'età moderna quindi a partire da figure come Hobbes, Hume, Kant è stato elaborato sostanzialmente e a proposito di quello che si diceva prima e del fatto che la filosofia occidentale fosse tutta una sorta di nota a margine a platone ecco c'è chi dice che tutto il dibattito successivo sul libero arbitrio è una sorta di nota a margine di come il dibattito è stato impostato dai grandi filosofi dell'età moderna ora anche lì come magari non è vero che insomma tutta la filosofia successiva è una nota a margine a platone non direi che tutto il dibattito successivo filosofico è una nota a margine del dibattito dell'età moderna sul libero arbitrio però sicuramente è lì è in quel periodo lì che si sono fissati in qualche modo i parametri generali all'interno dei quali poi anche i filosofi contemporanei si muovono. Nella seconda parte della presentazione se rimane un po' di tempo vi vorrei dire qualcosa di come il dibattito contemporaneo sul libero arbitrio è inevitabilmente un dibattito ibrido multidisciplinare che non è più solo filosofico per tantissimi anni la questione del libero arbitrio è stata di fatto appannaggio dei filosofi se ne sono occupati solo loro anche se naturalmente tutti forse si sono posti nella propria vita la domanda circa se siamo liberi oppure no se la nostra volontà è libera oppure no il libero arbitrio è la domanda sulla libertà della volontà umana ecco ormai però negli ultimi anni negli ultimi decenni direi le intersezioni fra libero arbitrio in filosofia e libero arbitrio nelle scienze naturali in particolar modo attraverso campi di ricerca come per esempio la genetica le neuroscienze le scienze cognitive la psicologia ecco questo dibattito si è fatto sempre più intenso e quindi nella seconda parte della presentazione cercherò di darvi qualche idea appunto su questo ora restando appunto subito proiettandoci subito sui filosofi dell'età moderna Jung stesso uno dei più grandi geni appunto della storia della filosofia scrive a proposito del libero arbitrio che è la domanda la questione il problema più difficile della metafisica e quando parla di metafisica intende qui filosofia in generale quindi il libero arbitrio è la domanda per eccellenza ma è anche la domanda più difficile che gli scienziati che la scienza possa di cui possa occuparsi quindi anche se vi dicevo per tanto tempo il dibattito è stato essenzialmente un dibattito filosofico già Jung ha in mente come in qualche modo la scienza debba a sua volta contribuire a questa discussione ecco se dovessimo spiegare che cos'è il dibattito sul libero arbitrio quindi quali sono i termini della questione rispetto ai quali è stato impostato il dibattito appunto nell'età moderna potremmo dire una cosa di questo genere è il problema di come noi esseri umani che siamo enti del mondo naturale quindi un mondo essenzialmente spiegato dalle scienze della natura spiegato dalla fisica spiegato dalla biologia quindi siamo enti fatti di carne e sangue quindi siamo enti naturali al tempo stesso abbiamo la possibilità di compiere delle scelte che si possano dire libere che quindi non siano apparentemente soggette alle leggi della natura e che siamo in grado di esercitare un certo grado di controllo sul nostro comportamento tanto da poter essere definiti anche responsabili per le nostre azioni ecco in questi termini il dibattito sul libero arbitrio è stato posto per esempio da Kant diciamo che il luogo per eccellenza nel quale Kant pone i termini della questione li cristallizza diciamo una volta per sempre è la terza antinomia della critica della ragione pura ora non so dove siate arrivati nel programma scolastico quindi sicuramente Platone l'avevate studiato non so se se Kant ci siete ancora arrivati però nella critica della ragione pura che è il testo kantiano per eccellenza il testo più famoso a un certo punto Kant presenta quelle che chiama appunto antinomie non ce n'è una sola ce n'è più di una ma sostanzialmente le antinomie sono dei paradossi dei paradossi che contemplano una tesi e un'antitesi la tesi ed antitesi sono due affermazioni che prese singolarmente ci sembrano vere e del tutto ragionevoli ma che non possono stare insieme questo è appunto un paradosso due cose che ci sembrano appunto plausibili prese in sé ma che se messe insieme non possono stare insieme in modo logico nella tesi Kant difende la libertà nella tesi Kant dice che sostanzialmente non è possibile pensare che tutto ciò che esiste nel mondo sia regolato unicamente dalle leggi della natura le leggi della natura devono lasciare spazio per qualche cosa e questa cosa è appunto la libertà umana deve esistere anche la libertà umana non possiamo spiegare tutto con le leggi della natura ora Kant è un discepolo in questo senso di Newton la fisica newtoniana è una fisica meccanicistica la fisica meccanicistica di Newton è essenzialmente deterministica e tra poco dirò che cosa si intende per determinismo in un mondo determinista generalmente si pensa che non ci sia spazio per la libertà se il mondo è determinista tutte le nostre azioni sono interamente determinate dalle leggi della natura e dai fatti del passato da tutto ciò che è già accaduto e che ci determina completamente non lascia spazio per la libertà umana ecco Kant nella tesi dice che tutto ciò non è accettabile è vero le leggi della natura sono deterministe noi crediamo nelle leggi della natura ma ci deve essere anche spazio per la libertà nell'antitesi invece Kant difende la causalità deterministica quella appunto che sembra postulata dalla fisica newtoniana nell'antitesi Kant dice no non c'è alcuno spazio per la libertà nel mondo tutto accade unicamente secondo le leggi della natura ora Kant ha naturalmente una sua soluzione al problema Kant alla fine tra la tesi e l'antitesi che non sembrano stare insieme tra questa coppia oppositiva arriva a difendere la possibilità della libertà la difende nel senso che non è una libertà dalle leggi della natura nel nostro mondo fisico ma è una sorta di postulato della ragione esiste in una dimensione che non è quella appunto della natura nella quale noi viviamo come enti fisici però quello che mi interessa sottolineare non è tanto la soluzione kantiana al problema quanto piuttosto il fatto che Kant ponga appunto in questi termini nei termini di un'antitesi tra libertà e causalità la questione del libero arbitrio perché così è stata poi intesa anche nei secoli successivi se facciamo un balzo in avanti di diversi secoli credo almeno tre e arriviamo a un filosofo contemporaneo come John Searle vediamo che John Searle pone la questione in termini assai simili Searle si chiede come facciamo a conciliare l'esistenza di agenti liberi e razionali con il fatto che noi siamo fatti siamo parte di un universo che è fatto di brute particelle fisiche come stanno insieme queste due cose il meccanicismo deterministico universale e il fatto che la nostra libertà ci sembri in qualche modo ineliminabile e se facciamo un passo ulteriore quei filosofi che si sono occupati della relazione fra filosofia e scienze in particolare neuroscienze sociologia psicologia hanno posto anche lì il problema in termini che possiamo definire come analoghi anche gli scienziati contemporanei e con loro i filosofi si sono occupati di chiedersi in che modo possiamo pensare che esistano degli agenti liberi e razionali e al tempo stesso degli agenti che siano fatti di atomi di cellule di neuroni questo è il cosiddetto riduzionismo neurobiologico cioè se pensiamo che noi essenzialmente siamo un ammasso di neuroni come è possibile pensare che esista uno spazio per la libertà come possibile pensare che le evidenze empiriche che ci dicono che noi siamo essenzialmente determinati dai nostri neuroni dai nostri geni dai fattori ambientali che ci circondano siamo però al tempo stesso anche libere ora quindi la domanda è un po questa e attraversa tutta la storia della filosofia almeno dall'età moderna in poi ma direi anche da prima se le nostre azioni sono interamente determinate dalle leggi di natura e dagli eventi del passato come possiamo essere liberi questa tesi la tesi per cui le azioni sono effettivamente determinate dalle leggi di natura e dagli eventi del passato si chiama determinismo ve l'ho già citata prima ma ora spero sia più chiaro che cosa si intende per determinismo se il determinismo è vero c'è un solo futuro possibile perché tutto ciò che accade in questo momento è determinato interamente dalle leggi di natura e dagli eventi passati la libertà sembra incompatibile con il libero arbitrio in quanto noi ci aspettiamo che se siamo liberi allora ci siano più futuri a disposizione non uno solo interamente determinato da ciò che è già dato ora come i filosofi hanno cercato di rispondere a questo problema il problema della compatibilità fra libero arbitrio e determinismo un problema che ha delle implicazioni importanti anche per quanto riguarda la questione della responsabilità morale noi tutti pensiamo di essere responsabili tendenzialmente delle nostre azioni e quindi di meritarci di essere biasimati o lodati nel caso in cui facciamo qualcosa di buono perché abbiamo scelto liberamente di farlo se il libero arbitrio viene meno anche la responsabilità sembra essere messa un po in crisi ora la domanda filosofica per eccellenza nel dibattito sul libero arbitrio è proprio se determinismo e libertà siano compatibili oppure no e vi volevo far vedere una serie di risposte filosofiche possibili a questa domanda più o meno plausibili naturalmente e con più o meno problemi allora la prima domanda è quella che la prima scusate non la prima domanda il primo modo di rispondere a questa domanda possiamo dare un'etichetta questo appunto tipologia di risposta che è quella di incompatibilismo libertario come dice il termine incompatibilismo libertario ci sono dei filosofi che hanno sostenuto che determinismo e libero arbitrio non possano essere in alcun modo compatibili o è vero l'una o è vero l'altra tornando a Kant o è vera la tesi o è vera l'antitesi non possono stare insieme però questi filosofi pensano che effettivamente il libero arbitrio sia possibile di conseguenza il determinismo deve essere falso quindi la tesi dell'incompatibilismo libertario è il determinismo è falso la volontà è libera e quindi noi abbiamo effettivamente il libero arbitrio ora in un certo senso anche se è un po' inappropriato attribuire questa etichetta a Kant possiamo dire che Kant si pone su questa lunghezza d'onda dal momento che in fondo difende la possibilità della libertà anche se lo fa in un modo del tutto particolare appunto è una libertà trascendentale dicevamo prima un filosofo che sicuramente possiamo definire in questi termini è sicuramente Cartesio Cartesio se l'avete già incontrato nel vostro percorso scolastico difende un'idea dualista per cui gli esseri umani sono fatti di due sostanze diverse il corpo quella che lui chiama la res extensa che è effettivamente fatto di materia e quindi non c'è spazio per la libertà nel corpo ma anche l'anima lo spirito quella che lui chiama res cogitans la res cogitans è invece il regno della libertà Cartesio poi si inventa dei modi un po' particolari in cui res cogitans e res extensa possono comunque funzionare insieme ma sostanzialmente salva l'idea della libertà come appannaggio dell'anima della res cogitans è interessante poi vedere che Cartesio pensa che solo gli esseri umani siano fatti in questo modo mentre gli animali siano soltanto delle macchine siano solo res extensa siano questa parte qui e non abbiano quindi naturalmente alcuno tipo di libertà se guardiamo al dibattito contemporaneo adesso non so citarvi tutti i nomi ma li trovate poi nelle slide ci sono vari filosofi che hanno sostenuto posizioni che più o meno si avvicinano a queste anche se naturalmente hanno cercato di distanziarsi da quel dualismo cartesiano che vi ho appena citato e che sembra un po' problematico dal punto di vista del rapporto fra scienza e come pensiamo che gli esseri umani siano fatti e appunto libertà. Un'altra risposta possibile è quella di chi dice certo determinismo e libertà non possono stare insieme quindi il libero arbitrio e il quindi la tesi e l'antitesi kantiana non possono stare insieme però purtroppo per noi il determinismo è vero il determinismo si dà e quindi la libertà non esiste non siamo in alcun modo liberi. Questa è una posizione che è nota come incompatibilismo non libertario oppure come determinismo duro esiste il determinismo la libertà non c'è non c'è spazio per la libertà. Tra i filosofi che hanno sostenuto posizioni di questo tipo una posizione di spicco ce l'ha un altro filosofo dell'età moderna che è Giuliano Fredellamettri questo è un filosofo illuminista che scrive un testo l'uomo macchina in cui sostiene proprio questa cosa siamo sostanzialmente delle macchine e quindi lo spazio per la libertà non si dà in alcun modo. Il filosofo però forse più famoso che è stato avvicinato a queste posizioni è Baruch Spinoza grande filosofo olandese sempre dell'età moderna che lo racconta con una metafora che ha fatto scuola. Spinoza dice qualcosa di questo tipo immaginatevi che ci sia un sasso che sta cadendo lungo un pendio oppure possiamo immaginarcelo noi sta saltellando su un corso d'acqua e immaginiamoci che il sasso a un certo punto improvvisamente prenda coscienza di ciò che sta accadendo si veda muoversi si veda il movimento si percepisca il movimento ecco questo sasso probabilmente penserà di essersi mosso per sua stessa volontà ma in realtà non è così il sasso è stato lanciato dalla mano di qualcuno oppure sta semplicemente cadendo per la forza di gravità. Allo stesso modo siamo fatti noi che pensiamo di essere ma in realtà siamo solo ignoranti rispetto alle cause che hanno azionato diciamo la macchina anche in questo caso è come se fossimo delle macchine anche se poi anche lì Spinoza ha una visione molto più complessa che adesso non abbiamo modo di sviluppare molto più interessante anche di quella di Lametri però insomma l'idea è questa se ci pensiamo liberi dalle cause in questo senso ci stiamo soltanto illudendo. Anche questa posizione ha avuto largo seguito nella filosofia contemporanea ci sono tantissimi testi che oggi richiamandosi o alla fisica classica diciamo o alle neuroscienze contemporanee quindi all'idea che siamo di fatto un ammasso di atomi e di neuroni hanno sostenuto posizioni di questo tipo. C'è poi una posizione opposta che potrebbe sembrare un po' meno intuitiva ma che è quella che in realtà ha più largo seguito nel dibattito contemporaneo e questa posizione è quella del cosiddetto compatibilismo. Il compatibilismo dà una risposta opposta rispetto a quella che abbiamo appena visto circa la compatibilità fra determinismo e libero arbitrio. Secondo il compatibilismo è possibile che tesi e antitesi kantiana in realtà siano insieme, siano vere entrambe, senza contraddizione. Filosofi compatibilisti di questo tipo nell'età moderna sono per esempio Hobbes, il già citato Hume, o John Locke. Ora spesso i compatibilisti classici difendono il libero arbitrio nei termini della libertà d'azione e vediamo cosa si intende. Vi faccio soltanto un piccolo esempio. Immaginiamoci una ragazza, Anna, che vive in un universo deterministico dove tutte le sue azioni sono determinate dal passato e dalle leggi della natura. Ora Anna si trova all'interno di una stanza, come quella in cui siete voi adesso, e decide di lasciare la stanza. In un caso però Anna trova la porta sbarrata, la porta è stata chiusa dall'esterno e non ha la possibilità di uscire. In un altro caso Anna trova la porta aperta ed esce. Ora in entrambe le situazioni porta aperta e porta chiusa è vero che la scelta di Anna è stata completamente determinata dagli eventi del passato e dalle leggi della natura, quindi in questo senso lei non è libera di scegliere di uscire oppure no, è determinata a farlo. Però se la porta è chiusa Anna non può uscire, è prigioniera di fatto e quindi non ha alcuna libertà. Se invece la porta è aperta Anna è libera di seguire le determinazioni della sua volontà. In questo caso Anna che fa quello che vorrebbe fare, secondo i compatibilisti, può dirsi comunque libera e quindi responsabile per la sua azione che consiste appunto nell'uscire di casa. Con variazioni anche qui ma diciamo con una buona capacità di riconoscersi nella, in quanto detto dai filosofi dell'età moderna, questa posizione è stata sostenuta anche in questo caso da molti filosofi contemporanei. Ecco in questo senso possiamo dire che non che la filosofia contemporanea o il dibattito contemporaneo è una nota a margine rispetto alla filosofia dell'età moderna, ma sicuramente c'è tantissima continuità da questo punto di vista, anche se sarebbe interessante poi avere più tempo e raccontare come queste varie posizioni si sono evolute, ma naturalmente questo tempo non ce l'abbiamo. Ora non so se ho ancora cinque minuti Riccardo? Sì 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 cinque minuti e poi passiamo a Lisa, una conclusione insomma. Va bene, allora se ho ancora cinque minuti vi racconto uno dei modi in cui la scienza contemporanea e la filosofia si sono intracciate nell'ampliare in un certo senso il dibattito sul libero arbitrio e vi racconterò soltanto di un piccolo esperimento che in realtà è stato poi replicato, rifatto moltissime volte dagli scienziati successivi e che è stato un po' diciamo l'incipit o l'inizio del modo in cui gli scienziati hanno iniziato a occuparsi di questa questione. La figura chiave è questo psicologo che vedete qui in alto a sinistra nella foto che si chiama Benjamin Libet, è uno filosofo, scusate, uno psicologo americano che ha proposto un esperimento con l'elettroencefalogramma, che è quello strumento che attraverso una serie di elettro dimessi sulla testa, come si vede dalla figura, raccoglie diciamo informazioni circa l'attività elettrica che sempre è in movimento diciamo nel vostro cervello quando fate qualsiasi tipo di attività. Libet propone ai suoi partecipanti un compito sperimentale. Il compito è molto semplice, è stato appunto rifatto poi molte volte e funziona in questo modo, ve lo racconto brevemente. I partecipanti sono seduti a un tavolo, hanno la macchina dell'elettroencefalogramma attaccata e hanno di fronte a sé un pulsante. Possono premere il pulsante quando vogliono, questa è l'istruzione nel compito, premete il pulsante quando volete, però nel frattempo vedono un orologio di fronte a loro che è fatto più o meno come quello che vedete qui con un cursore che ruota continuamente. Devono osservare l'orologio mentre fanno l'attività di premere il pulsante e devono poi riportare allo sperimentatore verbalmente dopo aver premuto il pulsante dove si trovava il cursore, quindi questa pallina verde, nel momento in cui hanno deciso di premere il pulsante. Quindi immaginiamo che l'abbiano premuto nel momento in cui il cursore si trovava a 30, diranno vabbè ho voluto premerlo quando ho visto il cursore a 20 e c'è stato poi un piccolo intervallo tra quando ho sviluppato il desiderio di premere il pulsante e quando effettivamente l'ho premuto. Che cosa osserva Libet? Facendo fare ai suoi soggetti molte 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 volte la stessa cosa e facendo la media di tutte le volte che i soggetti fanno questa attività e osservando attraverso appunto l'elettroencefalogramma l'attività elettrica che si sviluppa nel cervello mentre i soggetti agiscono. Ecco quello che è stato osservato, questo è il grafico che adesso spero non vi faccia paura, ora ve lo dico brevemente che significa, che Libet ha ottenuto attraverso appunto l'analisi dei dati sperimentali. Allora il momento 0 è il momento dell'azione, è il momento in cui i soggetti premono il loro pulsante e il momento W è il momento in cui si sono accorti di volerlo premere, quindi il momento W, questa linea orizzontale è come sempre accade in questo tipo di grafici la linea del tempo, quindi nella linea del tempo a un certo punto l'azione si sviluppa, il soggetto preme il pulsante, poco prima al momento W sviluppa l'intenzione di premere, si parla di tempi brevissimi, sono in millisecondi, quindi 200 millisecondi prima di premere ha avuto la consapevolezza di voler premere, ma come potete vedere da questa linea che indica l'attività appunto elettrica del cervello che si modifica in relazione al compito sperimentale, è come se il nostro cervello avesse iniziato a preparare l'azione ben prima che il soggetto diventi consapevole di volerla fare. Quest'attività elettrica relata all'azione inizia a modificarsi intorno a 550 millisecondi prima che il soggetto effettivamente l'azione la compia. La conclusione di Libet è che quelle azioni che ci paiono libere, che ci sembrano libere perché sviluppiamo la volontà di compierle, in realtà sono preparate dal nostro cervello ben prima che noi ce ne rendiamo conto. Il nostro cervello decide prima che la consapevolezza cosciente si sviluppi. Se volete questo è una versione contemporanea dell'esempio del sasso di Spinoza che vi dicevo prima. Come Spinoza diceva appunto il sasso improvvisamente prende vita e diventa consapevole di volersi muovere e pensa di essere lui stesso causa del movimento, al no stesso modo diciamo noi pensiamo di essere causa dei nostri movimenti perché ci percepiamo come liberi, sviluppiamo la volontà di agire, pensiamo che quella cosa lì sia la causa del movimento, ma in realtà il nostro cervello sta facendo tutto da solo e si è messo in moto ben prima che noi ne diventiamo consapevoli. Libet chiama questa diciamo preparazione del cervello al movimento prima della consapevolezza cosciente potenziale di prontezza e lo racconta così dice questo potenziale di prontezza è il segno che il tuo cervello ti ha già detto, ha già deciso che tu farai qualcosa molto prima che tu ne diventi consapevole coscientemente. Ma se è così allora, questa è una citazione in inglese direttamente da Libet che vi traduco, se è così allora il libro arbitrio non esiste da questo punto di vista perché pensarci liberi nel senso di pensarci capaci di originare una nuova azione in modo spontaneo è chiaramente in contrasto con quello che i dati sperimentali ci offrono. I dati sperimentali sembrano mostrarci che in realtà il nostro cervello è attivo fin da prima, ha già deciso prima ancora che noi decidiamo. Ci sarebbero poi una serie di altre evidenze che avevo preparato e volevo farvi vedere ma direi che il tempo è esaurito quindi le salto poi se mai se vi interessa le recuperiamo poi nelle domande. Comunque sostanzialmente l'idea è che ci sono anche altri contributi non solo delle neuroscienze ma anche della psicologia sperimentale e della sociologia che vanno un po' in direzioni analoghe e sostanzialmente sembrano ridurre sempre più lo spazio per il libero arbitrio ma arrivando alle conclusioni cosa possiamo dire? Insomma il dibattito è aperto chiaramente una soluzione non c'è e per fortuna così almeno possiamo continuare a lavorarci sopra e l'interazione lo scambio tra filosofia e scienza è sempre più attivo e questo secondo me è un'ottima cosa. Ora queste evidenze probabilmente non arrivano a dirci che il libero arbitrio è completamente illusorio ma sicuramente la scienza contemporanea se dovessimo trarne un messaggio globale ci dice che forse lo spazio per la nostra libertà è un po' più limitata di quello che normalmente penseremmo e naturalmente poi possiamo riparlarne dopo se vi va ma adesso direi che lascio la parola a Lisa. Grazie. Grazie Sofia e lascio subito la parola a Lisa Giumbini per il secondo intervento. Grazie. Grazie Sofia, grazie Riccardo, grazie ai relatori del precedente interventi. Allora in linea di Massimo introduciamo il tema di fatto l'intervento di Sofia è stato un buona preparazione a quello di cui discuteremo ora anche se in realtà noi daremo un po' per scontato il fatto che la libertà almeno nella percezione che abbiamo esista e che siamo responsabili per le azioni che compiamo e questo lo declineremo nell'ambito in particolare delle arti e soprattutto discuteremo della libertà creativa degli artisti rispetto a delle opere che sono o che potremmo considerare moralmente problematiche. Ok, ottimo. Allora vabbè questo è appunto il nostro tema, passiamo subito appunto alle questioni di cui discuteremo, sono nelle prossime due slide. Ok, allora la questione è come trattare le opere d'arte che ci appaiono problematiche o moralmente discutibili, cioè quelle che ci lasciano insomma perplessi sulla legittimità del contenuto che propongono. Si tratta di un dibattito che ovviamente non ha risposte definitive come spesso accade in filosofia, ma che è molto interessante per noi perché ci porta a mettere in questione alcune idee fondamentali sulla creazione della funzione dell'arte, il modo in cui fruiamo l'arte, la censura, quindi il grande tema di cui si parla, adesso forse avrete sentito parlare di cancel culture, l'idea della cultura della cancellazione che porta appunto a cancellare o a voler censurare degli artisti del passato che sono problematici, proprio la questione della libertà espressiva nell'ambito artistico. Per entrare nell'argomento cominciamo da un esempio molto famoso, nella prossima slide vedete la copertina di uno dei romanzi del Novecento probabilmente più celebri, non so se l'avete letto, spero di sì, altrimenti probabilmente avrete visto il film, i due film che sono usciti, questo è il primo di Stanley Kubrick, si tratta di Lolita, di Vladimir Nabokov che era uno scrittore russo-americano e che ha scritto quest'opera che è stato un grandissimo dibattito, tant'è che il nome Lolita ormai è diventato un termine a sé, possiamo usarlo come un aggettivo per definire delle persone, delle ragazze in genere, perché è un romanzo controverso perché racconta la storia di, narrata appunto dal protagonista, questo signor Umbert, così viene nominato, che di fatto intrattiene una relazione sessuale con una giovane ragazza di appena dodici anni. Ora, il romanzo è molto, è un capolavoro della letteratura, lo stile è molto interessante, affascinante, suscita delle questioni molto complesse sulla psicologia umana, ma dall'altra parte è anche vero che tratta di un abuso sessuale a tutti gli effetti nei confronti di una minore. Quindi abbiamo qui un'opera che è un capolavoro della letteratura e dall'altra parte è un'opera estremamente controversa per i temi che tratta. Un secondo esempio, forse meno noto, in realtà il pittore sicuramente lo conoscerete, è quello di Paul Gauguin. Ora, tutti avrete sicuramente visto un'opera di Gauguin, quantomeno perché riconoscerete l'iconologia di queste opere a tema appunto esotico, con queste donne taitiane, che ritratta da questo pittore francese della fine dell'Ottocento, che di fatto dedica quasi tutta la fine della sua produzione pittorica a ritrarre appunto scene di vita e persone dall'isola di Tahiti, sulla quale si era trasferito dopo aver lasciato la Francia, la moglie, la figlia, la famiglia diciamo, e dove aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita. Qual è il problema di Gauguin? Beh, che di fatto noi sappiamo che Gauguin sfruttò sessualmente molte ragazze appunto taitiane, molto giovani anche loro, in questi anni, ritraendole con una iconologia che chiaramente agli occhi nostri può essere letta come quella di un maschio bianco occidentale che sfrutta gli strumenti del colonialismo, no? Per in qualche modo trarre vantaggio su queste giovani donne che appunto gli si offrono, perché Gauguin morì anche di sifilide, che forse saprete è una delle malattie legate appunto alla sessualità. Ora, di Gauguin si è parlato tanto ultimamente proprio perché qualcuno diceva, ha detto insomma, che forse dovremmo smettere di esporre le opere di Gauguin proprio in virtù del fatto che queste sono una testimonianza di un passato da cui vogliamo oggi, o cui vogliamo oggi fare conti, che è quello appunto del colonialismo, del razzismo, della diseguaglianza economica e culturale legata al colonialismo e che ci disturba profondamente. Dall'altra parte, tuttavia, questo non ci impedisce di amare i dipinti di Gauguin e di trovarli molto belli. Ora, prossima slide. La cosa interessante di questi casi è che essi creano quella che potremmo definire una sorta di tempesta perfetta per l'amante dell'arte, no? Abbiamo dei valori morali che sono profondamente messi in discussione da questi tipi di opere e dei valori estetici che invece sono appunto molto evidenti. Quindi i due valori, i valori estetici e i valori morali, confliggono tra loro. La giusta posizione di queste opere d'arte, quindi, che sono molto spesso ammirate, sono amate da tantissime persone con il loro contenuto immorale o con l'immoralità del comportamento del loro creatore, ci lascia confusi e non sappiamo bene come dobbiamo reagire. È possibile che abbiate avuto delle esperienze come queste nella vostra vita, no? In cui qualcosa che avete appreso dell'opera o del comportamento dell'artista vi ha portato a mettere in discussione o a rifiutare del tutto il suo lavoro. E se è così, allora forse sarete d'accordo sul fatto che ci sono dei momenti o ci sono dei casi in cui non è possibile separare l'arte dalla morale. In effetti, se distogliete lo sguardo da un'opera, per esempio dall'opera di Gauguin che abbiamo visto prima, in segno di disgusto in seguito a quello che vi ho raccontato sulla storia di Gauguin, oppure se non riuscite più a continuare la lettura di Lolita o vedere il film perché siete troppo colpiti appunto dalla durezza insomma della storia raccontata, beh allora state esprimendo una forma di disprezzo se volete o di disgusto che non è soltanto un giudizio morale, ma è un giudizio morale che plasma anche il modo in cui voi valutate l'opera dal punto di vista estetico, cioè come opera d'arte. Ovviamente questa non è una reazione necessaria, no? Prossima slide, perché uno potrebbe anche pensare che il protagonista di Lolita può essere un viscido, no? Ma il romanzo è un capolavoro. In questo caso condannereste il soggetto del romanzo, ma non stareste condannando il romanzo in sé come opera d'arte, oppure continuare a ritenere che i quadri di Gauguin siano bellissimi nonostante le scelte dubbie, le azioni dubbie del pittore. Ora, ma perché? La questione è questa. Perché delle considerazioni di tipo morale dovrebbero avere una qualche rilevanza sul modo in cui noi rispondiamo alle opere d'arte? Ovviamente c'è una questione di libertà in gioco, no? Da un lato la questione dell'arte di esprimere liberamente i propri contenuti e dell'artista ha la libertà di espressione e dall'altra una non meno importante questione di libertà del pubblico, il diritto del pubblico di essere libero di farsi un'opinione sul valore di opere particolari. Questo intervento di oggi è un tentativo di fare ordine un po' tra queste considerazioni usando gli strumenti che conosco meglio, che sono quelli della filosofia. Naturalmente, di nuovo, non c'è una risposta chiara o diretta a quelle domande, a queste domande. Quello che possiamo fare è però sollevare degli argomenti e delle riflessioni che forse ci consentiranno di capire un po' meglio il ruolo che l'arte svolge nella nostra vita e alcune delle ragioni per cui le apprezziamo. Allora, prossima slide. Cominciamo a fare chiarezza sul tipo di giudizi che appunto sono in questione in questo dibattito. Allora, ci sono fondamentalmente tre tipi di giudizi critici che possiamo applicare al caso dell'arte. Dall'altro c'è un giudizio morale rivolta ad una persona che è l'artista, d'accordo? Dall'altro possiamo applicare un giudizio di tipo estetico, cioè un giudizio che valuta il prodotto, l'opera d'arte, in quanto opera d'arte. Infine c'è un giudizio morale che è quello che si rivolge al prodotto, appunto all'opera d'arte. Le prime due categorie di giudizio, il giudizio morale di una persona e il giudizio estetico di un prodotto, sono piuttosto usuali, no? Perché noi siamo abituati a dire che qualcuno è un idiota o che è un genio, oppure che un romanzo o un film è trito e ritrito, un dipinto è kitsch e così via. L'aspetto problematico è tutto nel terzo tipo di giudizi. Che cosa significa dire che un'opera d'arte può essere giudicata in senso morale? Cosa significa dire che un'opera d'arte è moralmente cattiva, tra virgolette ovviamente, o riprovevole? Allora, ovviamente, prossima slide, grazie Sofia. Ovviamente si riserva in genere il primo tipo di giudizio, il giudizio morale alle persone, non agli oggetti, no? È l'assassino che è cattivo, non il coltello che usa per uccidere la vittima. Di per sé il coltello è semplicemente un oggetto usato nel modo sbagliato, in un momento sbagliato. Quindi, per quanto riguarda le opere d'arte, noi potremmo dire che allo stesso modo di un coltello le opere d'arte non possono essere riconosciute come moralmente cattive o buone o riprovevoli, oppure degne di elogio. Pensate a quello che succede nel caso appunto di un terremoto, noi non pensiamo che un terremoto sia cattivo, moralmente riprovevole, perché uccide tante persone e crea appunto una distruzione attorno a sé, d'accordo? Quindi perché dovremmo farlo nel caso delle opere d'arte? In genere, quando si parla di arte, noi critichiamo appunto degli aspetti estetici, la recitazione che è vuota, per esempio nel caso di un film, la scrittura goffa, storie prive di immaginazione, il canto stonato di un cantante e questo di nuovo è il secondo tipo di giudizio. E invece qui stiamo parlando proprio dell'idea di una possibilità di valutare moralmente le opere d'arte. D'accordo? Allora, prossima slide. Perché? Quindi la questione è come possiamo giustificare l'applicazione di un giudizio morale per l'arte? Allora, certo si può pensare che la creazione di un'opera d'arte abbia un effetto negativo sulle persone che la leggono o che appunto la sperimentano in qualche modo e possiamo ritenere l'artista che le ha creata moralmente responsabile per questo, no? Pensate ad un film che incita alla violenza, ma questo è diverso dall'affermare che un'opera d'arte di per sé sia moralmente cattiva. Allora, se possiamo dire questa cosa, questo è perché le opere d'arte, a differenza per esempio dei terremoti e dei coltelli, possono assumere e quindi possono veicolare delle prospettive particolari sul mondo, cioè dei punti di vista. Le placche tectoniche, nel caso del terremoto, ovviamente non hanno un punto di vista, no? Mentre un'opera d'arte ci offre una sorta di prospettiva sul mondo, ovvero ci presenta un certo scenario che ci invita a rispondere in un certo modo, d'accordo? Quindi proprio perché le opere d'arte ehm hanno questa questa capacità di presentarci dei punti di vista che ci sollecitano delle risposte particolari rispetto appunto a questo contenuto espresso nel punto di vista, possiamo chiederci se le risposte che le opere sollecitano siano adeguate dal punto di vista morale o meno, d'accordo? Quindi è in questo senso che possiamo parlare di un giudizio morale delle opere d'arte rispetto alle prospettive a cui esse ci chiedono di rispondere. Considerate un esempio ehm per esempio ecco, grazie Sofia, considerate alcuni esempi di eh opere d'arte o di opere diciamo di eh del di cultura di massa che non 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 entriamo nella discussione che cos'è un'opera d'arte da cosa non lo è però eh prendiamo per esempio un eroe tragico di una serie televisiva che forse non è un'opera d'arte ma insomma che sicuramente tutti avete visto come eh Game of Thrones cioè il trono di spade. Eh la protagonista eh questa eroina Danerys Targaryen eh beh eh diciamo ci porta per come sta raccontata nella storia e ha delle reazioni diverse no? Durante il nel nel corso appunto degli eventi siamo portati prima a lodarla poi a compatirla infine poi la temiamo. Questo è un tipo di risposta che noi abbiamo nei confronti dell'opera di come l'opera si pone quindi della prospettiva che l'opera ci fa eh assumere nei confronti del della del personaggio protagonista. In alcuni casi le opere d'arte ci portano ci incoraggiano ad avere eh nei confronti di un personaggio cattivo come Willy il coyote ehm delle reazioni invece di simpatia d'accordo? Sempre perché siamo spinti da come è strutturata l'opera quindi la narrazione all'interno dell'opera a provare quell'emozione. Altre volte invece scopriamo che le prospettive ehm adottate dalle opere d'arte possono essere moralmente discutibili se stesse. Per esempio una canzone può avallare atteggiamenti misogini, un film può inneggiare la violenza di stampo razzista come per esempio questa eh famosa canzone Brown Sugar dei Rolling Stones. Quindi eh proprio perché misoginia e razzismo sono condannabili sul piano morale possiamo criticare a nostra volta queste opere perché presentano una prospettiva e ci portano ad adottare quella prospettiva che noi riteniamo moralmente discutibile. D'accordo? Ora eh è in questo senso che possiamo dare eh appunto un significato all'idea che le opere d'arte siano soggette a giudizio morale. Ora ehm prossimo slide grazie. Eh in realtà questa idea che è piuttosto comune al giorno dodici è proprio che è possibile eh fornire dei giudizi morali delle opere d'arte non è sempre stata così diffusa come lo è al momento. Eh ovviamente la riflessione filosofica sulla moralità dell'arte si estende appunto va indietro fino ai tempi di Platone e continua attraverso il lavoro di eh figure filosofiche importanti come Hume che ha citato Sofia eh e molti altri ma c'è stato un tempo non troppo lontano nella storia della filosofia e dell'estetica in cui tali questioni erano considerate del tutto irrilevanti. Infatti l'estetica dell'inizio del secolo scorso è stata dominata da un approccio che vedremo eh a breve possiamo chiamare formalista secondo il quale tutto ciò che conta nella eh fruizione di un'opera d'arte è la forma dell'arte stessa e la natura e lo scopo dell'arte non deve andare oltre a queste eh caratteristiche formali. Ma questo è molto facile se ci pensate eh rispetto a quadri come quello di Rosco che vedete qui ehm uno dei dei vari quadri delle serie di Rosco quadri puramente astratti che sono macchie di colore e nei confronti dei quali è difficile riconoscere qualunque tipo di qualità morale è molto più difficile adottare questo tipo di prospettiva formalista nei confronti per esempio di un quadro come eh Guernica di Picasso che descrive chiaramente gli eventi tragici della guerra di Spagna negli anni trenta. Ora eh e molte altre opere analoghe. Infatti l'influenza del formalismo è stata di breve durata e negli ultimi decenni i filosofi e gli esperti sono tornati ancora di più a discutere la questione relativa alla critica etica dell'arte. Torniamo adesso alla questione che ci interessa quindi abbiamo stabilito prossimo slide grazie che eh è almeno possibile che le opere d'arte siano moralmente riprovevoli no? Sulla base del punto di vista che ci invitano ad adottare sul mondo e ci troviamo quindi di fronte a una nuova domanda. Ora il fatto che alcune opere d'arte possano essere soggette a giudizio morale negativo quindi le che le giudichiamo tra virgolette cattive le rende anche peggiori come opere d'arte oppure peggiori dal punto di vista estetico? Ecco questa è la questione e per rispondere a questa domanda i filosofi hanno dovuto elaborare approcci complessi finalizzati a comprendere quale sia la connessione tra le imperfezioni morali, difetti morali di un'opera e le implicazioni estetiche di tali difetti. Quindi come influisce l'etica nella riuscita estetica di un'opera d'arte? Di primo acchitto sembrerebbe naturale tenere distinte queste sfere no? Come facevano appunto abbiamo visto i formalisti. Potremmo essere d'accordo per esempio che una canzone come Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles che è dedicata esplicitamente al LSD come dicono le iniziali no? Del titolo sostenga una visione moralmente discutibile riguardo all'utilizzo delle droghe all'ucilogene no? Ma non per questo pensare che sia una canzone meno bella, questa sembra una prospettiva diciamo di buonsenso e quindi pensare che l'etica e l'estetica occupino domini completamente separati. E non è un caso infatti che tradizionalmente, prossima slide, grazie Sofia, le due posizioni filosofiche riguardo alla legittimità della valutazione etica dell'arte abbiano sposato l'idea che debba esistere una separazione tra questi domini, un divario incolmabile. Queste due prospettive possiamo chiamarle da un lato il moralismo radicale e dall'altro l'estetismo, l'autonomismo radicale che coincide in parte con quel formalismo che dicevamo prima. Sono due prospettive entrambe problematiche come vedremo ora perché si basano su concezioni diciamo riduttive di quello che è l'arte e il valore estetico. Ora cominciamo dal moralismo radicale. Velocemente, cos'è il moralismo radicale? Il moralismo radicale è l'idea secondo cui il valore estetico dell'arte deve essere completamente determinato o ridotto al suo valore morale, per cui gli oggetti estetici di fatto debbano essere giudicati interalmente o principalmente in base a norme o valori morali. La versione più estrema di questo tipo di posizione riduce appunto tutto il valore estetico, il valore delle opere d'arte in quanto opere d'arte, al valore morale di esse. Chi è un celebre diciamo esponente di questa posizione è lo scrittore e filosofo anche russo Lev Tostoi che in un libretto molto celebre che si chiama Cosa è l'arte, discutendo di alcune definizioni dell'arte basate sulla bellezza, scrive questo. L'inesattezza di queste definizioni è che esse considerano il piacere che l'arte può dare e non lo scopo che essa può servire nella vita dell'uomo e dell'umanità. Quindi l'arte è lo scopo che essa serve, lo scopo morale, civile, sociale che essa serve. Qual è il problema di questa posizione? Prossima slide. Che è una forma appunto di riduzionismo che sintetizza la complessità di un fenomeno come l'arte a termini puramente morali, appunto allo scopo dell'arte, assegna all'arte una funzione che è quella appunto del miglioramento civile ma non lascia libertà d'espressione agli artisti e all'arte stessa di appunto trattare l'infinità dei temi di cui l'arte può trattare. Inoltre di fatto non si capisce bene come possa distinguersi a quel punto l'arte di per sé da altri tipi di oggetti come i discorsi propagandistici, politici, opere a sfondo sociale non artistiche, no? E infine una prospettiva di questo genere dimentica la varietà di prospettive e reazioni che l'arte e ogni prodotto artistico suscita in diversi tipi di individui. Quindi in qualche modo si limita eccessivamente il campo dell'arte e della libertà degli artisti di appunto produrla. La posizione opposta a questa ma simile in qualche modo per gli esiti che ha è quella dell'estetismo radicale o anche detto anche chiamato autonomismo. Perché autonomismo? Proprio perché l'idea di fondo è che il valore estetico debba essere completamente autonomo da altri tipi di valore come il valore morale. Che vuol dire questo? Vuol dire che non è mai corretto rispondere all'arte applicando categorie morali. Non dobbiamo mai chiederci qual è il contenuto morale di un'opera d'arte ma semplicemente rispondere, come appunto facevano i formalisti, alle qualità estetiche pure dell'arte, quelle che si trovano nell'arte stessa. Che cosa sono? Sono per esempio appunto le linee, sono i colori, sono la composizione dell'opera. Ora questa idea è che appunto sono tali caratteristiche che veramente devono entrare nel nostro giudizio dell'arte e tutte le restanti caratteristiche di un'opera che riguardano il contesto dell'opera, la storia, il contesto morale politico, i fatti relativi alla vita dell'artista stesso devono essere completamente messi da parte perché non sono parte appunto della valutazione appropriata dell'arte. Ora il motto dell'autonomista radicale o dell'estetismo radicale è ovviamente quello di Oscar Wilde che immagino tutti conosciate, l'arte per amore dell'arte. Quindi l'idea è che l'arte, in particolare la letteratura nel caso di Wilde, può certo occuparsi di questioni morali, ma quando si tratta di valutare il valore estetico di essa queste questioni sono del tutto irrilevanti, tant'è che nella prefazione al dipinto di Dorian Gray, l'opera più celebre di Wilde che suppongo conosciate, Wilde scrive all'oggetto, il contenuto dell'arte noi dobbiamo essere del tutto indifferenti, non è quello che ci interessa, ci interessano altri aspetti, d'accordo? Qual è il problema di questa posizione o i problemi di questa posizione? In primo luogo che vi potete chiedere ma è vero, è possibile separare così facilmente le nostre risposte estetiche, quelle dettate dalla forma dell'arte, dalle nostre risposte morali, dalle reazioni che noi abbiamo ai contenuti? Possiamo separare così facilmente la forma dai contenuti nel caso dell'arte? Ovviamente quando per esempio assaporiamo il gusto di un gelato non entrano considerazioni morali nel fatto, nel nostro giudizio, per esempio nel piacere che ci dà il gelato, ma nel caso di un'opera, in particolare un'opera per esempio narrativa come la letteratura o il film, beh il modo in cui rispondiamo all'arte è necessariamente legato a delle considerazioni morali. Perché? Perché per esempio per provare disprezzo o simpatia nei confronti di un personaggio dobbiamo necessariamente percepire, per esempio nel caso del disprezzo, una sorta di affronto che viene perpetrato nei nostri confronti o nei confronti dei personaggi che sono narrati, d'accordo? Quindi si tratta di far entrare in campo per forza delle considerazioni che esulano dalla mera forma e quindi dal puro valore esterico. Quindi dimenticando l'importanza di questo, il fatto che l'arte è necessariamente contestualizzata e necessariamente porta in sé, con sé, insomma degli aspetti legati al contesto, alla morale, che esulano appunto della mera forma, l'estetismo trascura alcune importantissime modalità attraverso in cui l'arte assume il proprio valore. D'accordo? E quindi di fatto non soddisfa. Ci sono possibilità alternative a queste? Assolutamente sì, posizioni moderate e il dibattito contemporaneo su questi temi è esattamente basato sul tentativo di trovare un modo, un compromesso tra queste due posizioni. Allora abbiamo per esempio gli autonomisti moderati che dicono che naturalmente in alcuni casi i giudizi morali sulle opere d'arti sono per forza rilevanti, per esempio nel caso della letteratura e quindi valore estetico e valore morale comunque sono in qualche modo, si trovano a dialogare, non nonostante questo, secondo gli autonomisti moderati, non possiamo mai pensare che i contenuti morali di un'opera influiscano sul valore estetico. I moralisti moderati sostengono qualcosa di molto simile, cioè anche loro sostengono che in alcuni casi dobbiamo per forza valutare le opere d'arte nel senso morale, ma hanno una posizione un po' più forte e sostengono che certe volte i difetti o i meriti morali di un'opera possono avere avere un rilevo nella valutazione estetica. In conclusione questo dibattito chiaramente ci porta, la grande questione è che cos'è il valore estetico, quello su cui voglio farvi ragionare e che è importante per il dibattito sulla l'idea della censura sulla cancel culture contemporanea è che questo dibattito sulla rilevanza estetica delle caratteristiche morali delle opere d'arte deve essere distinto chiaramente dalla questione degli effetti dannosi o edificanti delle opere, cioè la tesi cosiddetta conseguenzialista, l'idea che l'arte cattiva corrompe il pubblico, l'arte buona porta a un miglioramento morale, da cui spesso si deriva appunto questa idea della censura, cioè noi pensando che l'arte abbia quel tipo di effetto decidiamo appunto che l'arte debba essere censurata. Beh, non è così facile, una tesi così forte, prossima slide e con questa chiudiamo, è difficile e improbabile a dimostrare, servirebbero delle prove empiriche, degli esperimenti veri e propri per vedere qual è l'effetto di una certa opera d'arte su un certo pubblico, ma questi esperimenti sono difficili anche semplicemente da ideare e in ogni caso le conclusioni di questi esperimenti vanno sempre prese veramente cum granosalis, cioè non sono da, non c'è da fidarsi. In primo luogo perché possiamo sempre pensare che qualcuno sia più disposto a lasciarsi corrompere di qualcun altro e in secondo luogo perché non possiamo mai escludere che ci siano effetti concomitanti rispetto appunto all'opera di corruzione di una certa opera d'arte che determinano appunto quell'effetto tra virgolette di corruzione. In conclusione, semplicemente una delle ragioni per cui siamo affascinati dall'arte è proprio che ci offre strumenti per esplorare il nostro ruolo del mondo e anche affrontare il male e l'assurdo e quindi sarebbe veramente un errore non sfruttare l'arte stessa come per la grande opportunità che ci dà appunto di gettare uno sguardo anche su questi aspetti oscuri della natura umana. Grazie mille.